Isernia, Viale dei Pentri, ampliamento della carreggiata, realizzazione di marciapiedi e parcheggi sono le opere in programma in quell'area. Salvo imprevisti, l'ultimazione dei lavori che cambieranno il volto di quella parte della città dovrebbe avvenire entro fine anno. A darne notizia il vice sindaco Cesare Pietrangelo. Isernia aveva bisogno di questi interventi, questo è soltanto il primo di una lunga serie. Gli interventi che è stato già realizzato, ovvero la fondazione è già esistente e rientra in un piano di lottizzazione convenzionata fatta privatamente dal proprietario che doveva degli oneri al comune. Successivamente abbiamo avuto l'opportunità di poter procedere con ulteriori finanziamenti che prevedono la realizzazione del marciapiede, di parcheggi, raccolta acque, illuminazioni, zona verde a ridosso dei marciapiedi con piantumazione di alberi e vedrà poi questo primo intervento finire nella parte finale di Viale dei Pentri dove saranno realizzati dei marciapiedi davanti ad attività commerciali già esistenti che possono permettere al cittadino di poter fare una passeggiata in tranquillità in una zona sicuramente che merita di essere abbellita. A proposito di tempistiche, i lavori attualmente in corso, quando auspicabilmente termineranno? Noi ci auguriamo che i lavori in corso nel giro di un paio di mesi, due o tre mesi, possano trovare termine. Poi ovviamente molto dipende anche dalle situazioni meteo o altre situazioni che si possono verificare in corso d'opera. E poi spazio ad una piccola polemica innescata via social dallo stesso Pietrangelo. Il vice sindaco su Facebook aveva lamentato nei giorni scorsi la sovraesposizione di situazioni negative che riguardano la città, anche di importanza relativa, a cui farebbe da contraltare a suo dire il silenzio assordante di commenti circa aspetti positivi. Mi piacerebbe invece che i cittadini di Sernia, tra le varie segnalazioni che ci fanno di quelle negative, io puntualmente le leggo e cerchiamo subito di porre rimezio, potessero fare anche qualche valutazione sulle cose belle che abbiamo. Pare che invece, ovviamente non voglio mai generalizzare, ci siano cittadini che tutte queste bellezze che noi abbiamo forse non le riescono a cogliere.